Più scelta, più stile, più emozioni. Tutti i colori dello shopping ti aspettano in un centro conveniente e divertente, a misura di famiglia. È il centro Le Grange, un grande ipermercato Carrefour, 50 negozi e 7 megastore. L'estate è arrivata nel nostro fan village. Pino al 29 luglio giochi, laboratori e fresche degustazioni. E dal 7 luglio iniziano i saldi. Scopri tutti gli appuntamenti sul web. Centro Commerciale Le Grange, Piedimonte San Germano, sempre aperto, domeniche comprese.